E attendevo che fosse gratuito. Noi con il nostro gruppo facciamo spesso queste visite, molto interessante. Per la gente come me che è disoccupata e all'occasione per poter approfittare di questa bella occasione. Tre domeniche di maggio, 12, 19 e 26 maggio per aprire il museo alla città. Ingresso gratuito per visitare collezioni permanenti e esposizioni temporanee. Tra queste è assolutamente la mostra di Canova che sta avendo un grandissimo successo, quasi 150.000 visitatori in oltre un mese di programmazione. Il museo archeologico affollatissimo come mai si era visto prima d'ora in fila malgrado la pioggia delle prime ore del mattino. Aperture straordinarie che fanno bene all'anima oltre ad offrire opportunità e sorprese ai tanti visitatori. Soltanto in queste tre domeniche, soltanto presso il botteghino del museo, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento annuale Open Man a prezzi promozionali. Al millesimo visitatore della giornata, il regalo una carta. Sono entrato e ho avuto questa sorpresa. Molto gradita. Ringrazio l'organizzazione, il museo e quant'altro per tutto questo. Anche perché sono molto interessato alle iniziative culturali. Per cui userò molto questa opportunità che mi è stata data. Pareggio della Spagna.